Musica Dodorante c***o, costo? 3 euro e 80 No, magari 3 euro e 80, quanto costa? 6 euro 6 euro, 5-6 euro dovrebbe costare Quanto? 5 euro Allora, come una danzatrice Qui c'è la maizena e il tea tree oil Deodorati per 24 ore Senza alluminio, senza sostanze tossiche Senza conservanti, senza coloranti Pura natura Pura natura Pura natura